Un saluto da Alex Guarini di Trebimeteo.com. La nuova settimana inizierà tanto per cambiare con l'ennesimo peggioramento. Arriva infatti una perturbazione di origine atlantica che apporterà appunto precipitazioni anche a carattere temporalesco che dal nord ovest e la Sardegna si spingeranno verso il vessante tirrenico ed in serata anche al sud. Ma partiamo intanto dalle temperature minime che non subiranno particolari variazioni sulle regioni centro-meridionali mentre al nord avremo un generale rialzo per via della maggior copertura nuvolosa. Per quanto riguarda le massime queste caleranno al nord lungo il vessante tirrenico per l'arrivo delle precipitazioni senza particolari variazioni invece altrove. Ma entriamo quindi nel dettaglio per il nord che vedrà appunto questo graduale peggioramento nel corso della giornata iniziare dai settori occidentali con piogge diffuse in pianura e nevicate lungo l'arco alpino alle quote che vedete indicate qui nella grafica. Poi tra pomeriggio e sera le acquazioni si spingeranno fin verso i settori orientali. Al centro il tempo tende a peggiorare iniziare dalla Toscana con piogge e temporali che poi nel corso del pomeriggio si spingeranno fin verso tutto il vessante tirrenico ed in serata poi invaderanno anche la dorsale orientale ed il vessante adriatico. E infine al sud aumento delle nuvolosità iniziare dalla Campania con acquazioni a carattere sparso in peggioramento poi anche sulla Sicilia tra sera e notte sul resto del vessante ionico con temporali a tratti anche intensi sui settori occidentali dell'isola. Il tempo invece peggiora fin dal mattino sulla Sardegna con piogge e temporali a tratti